Buonasera, sono Olga Angelillo, sono un soprano, viva Mantegazza che è un piccolo paese in provincia di Milano. Voglio ringraziare il maestro Kodetsu per avermi dato l'opportunità di continuare a cantare in questo periodo così difficile e così complicato e per avermi fatto partecipare a un progetto che avvicina i nostri paesi geograficamente così lontani grazie al linguaggio universale della musica, in particolare dell'opera. Buon ascolto! 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 ci vediamo Grazie a tutti